Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Ming Sen Shu nasce il 15 ottobre del 1950 a Taiwan dai genitori cinesi Mei e Jim Shu. Sia la madre che il padre di Ming sono professori universitari in diversi atenei di Taiwan. Lei insegna matematica mentre lui è un ricercatore forestale. Nel suo campo Jim gode di un certo prestigio, tanto che quando Ming ha 7 anni gli viene offerto un incarico presso l'università del Minnesota, negli Stati Uniti. Jim accetta il lavoro e tutta la famiglia è entusiasta, sognavano da tempo di trasferirsi in America. Nel 1957 si compie il trasferimento e Jim diventa il capo del dipartimento forestale dell'università del Minnesota. Anche Mei, la mamma di Ming, ottiene ben presto un nuovo incarico come insegnante di matematica all'università del Minnesota. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, Jim e Mei mettono al mondo altri due figli di nome Charles e Ron. La famiglia Shu sta vivendo il sogno americano, tuttavia quando Ming compie 11 anni, questa felicità viene scossa da un evento terribile. Jim, suo padre, muore improvvisamente. L'intera famiglia è devastata e Ming, dopo la perdita di suo padre, inizia ad avere dei problemi. Quando Jim era in punto di morte, aveva detto al ragazzo qualcosa di estremamente significativo. Secondo la tradizione cinese, Ming, il primogenito maschio, avrebbe dovuto prendersi cura di sua madre e dei suoi fratelli. Dunque, un ragazzino di appena 11 anni viene investito della responsabilità di essere un buon capofamiglia. Ming però non vuole lasciarsi sopraffare dalla situazione, il che è comprensibile, ma lui preferisce addirittura diventare un incubo per i suoi cari. Comincia a trattare i fratelli minori che hanno 6 e 3 anni come degli schiavi personali. Ming dice loro che devono obbedire a ogni sua richiesta, quindi se il ragazzo vuole del cibo, i fratellini devono prepararglielo e servirglielo. Se Ming trova che la sua camera da letto non sia abbastanza pulita, ordina ai fratelli minori di sistemargliela. Ogni giorno, quando Ming ritorna a casa da scuola, Charles e Ron devono essere pronti ad aspettarlo, per sfilargli il cappotto e appenderlo all'attaccapanni e per portare i suoi libri scolastici in camera da letto. Infine, quando Ming si siede, devono anche occuparsi di togliergli scarpe e calzini. Il ragazzo, accomodato sul divano, inizia ad abbaiare ordini. Ogni giorno, alla stessa ora, Ming prende una zuppa calda con una determinata quantità di cracker e, come accompagnamento, un bicchiere di latte. Mentre si rilassa davanti alla televisione, Ming attende che i suoi fratelli gli portino il pasto. Ma se i due non rispettano le richieste alla perfezione, ad esempio, se non gli riempiono i bicchieri di latte a sufficienza, o se gli servono un cracker in meno, lui li picchia, a volte, usando anche una cintura. Questa situazione va avanti per anni, rovinando completamente l'infanzia di Charles e Ron. Più crescono, più covano odio nei confronti di Ming. Col tempo, inoltre, le punizioni peggiorano. Quando Ron, che a questo punto ha circa sei anni fa arrabbiare Ming, lui lo infila nel forno, chiude lo sportello e inizia ad accendere e spegnere la fiamma. Insomma, una tortura davvero insostenibile. La domanda che vi starete ponendo, posso immaginarla, dove diavolo è la madre mentre Ming si comporta come un despota? Sa delle sue tirannie verso i fratellini? Sì, ne è consapevole perché Charles e Ron vanno spesso a piangere da lei a causa delle severissime punizioni impartite da Ming. Ma, incredibilmente, ogni volta Mei dice loro. Non c'è niente che io possa fare. Ming è il capofamiglia. Dobbiamo fare tutto quello che dice lui. Quando Ming ha 13 anni inizia ad avere dei problemi con la propria sfera intima. In parole povere diventa un guardone, va in giro per il quartiere e sbircia dalle finestre, sperando di vedere una donna che si sta spogliando. Tutti i vicini lo sanno e lo considerano inquietante. Ma le cose non fanno altro che peggiorare perché Ming arriva a sviluppare un interesse intimo, morboso, per sua madre. Credo che Freud si sarebbe interessato parecchio a questo caso. Gli atteggiamenti maniacali iniziano con Ming che cerca di costringere i fratelli ad andare nella stanza della mamma mentre lei dorme per toccare il seno. Fortunatamente i due si rifiutano e immagino che siano stati puniti per questo. Allora nei successivi sei mesi è Ming a intruffarsi nella camera di sua madre di notte mentre sta dormendo. Si infila nel suo letto e le tocca il seno. In un'occasione Mei si sveglia, guarda sotto le coperte e vede Ming con una torcia in mano. Le aveva praticato un buco nel pigiama per vederle le parti intime. Purtroppo la donna decide di ignorare il problema, magari spera che sparisca da solo. Tuttavia qualche mese dopo quando Ming compie 14 anni diventa ancora più piantagrane in quanto inizia a dare fuoco a vari condomini nel suo quartiere. Fortunatamente viene arrestato e gli viene ordinato di sottoporsi a una valutazione psichiatrica. In questo periodo finalmente sua madre ammette ciò che Ming ormai sta facendo da anni. E in effetti quando i dottori lo visitano e sintono ciò che ha da dire sua madre concludono che il ragazzo ha davvero bisogno di aiuto medico. Quindi lo ricoverano in un'unità psichiatrica per adolescenti. Gli viene detto che probabilmente rimarrà in questa struttura per un bel po' di tempo perché ha bisogno di affrontare un lungo iter di cure. Tuttavia qualcuno ha compilato male i documenti relativi al suo stato di salute e quindi le informazioni su Ming non vengono mai archiviate nel sistema. In pratica sebbene i medici avessero scritto nel suo fascicolo che Ming poteva rappresentare un serio pericolo per la società, l'adolescente viene rilasciato dopo pochi giorni di ricovero. È l'autunno del 1965, Ming ha 15 anni ed è stato appena rilasciato dall'unità psichiatrica. Si iscrive al nuovo anno di scuola superiore e si ritrova a frequentare un corso di algebra tenuto da un insegnante di nome Mary Stroffer. Di certo questo incontro non sarebbe mai dovuto avvenire. Ming appena vede la sua nuova insegnante si infatua, anzi diventa ossessionato da lei. Mary nasce il 20 giugno del 1943 in Minnesota e proviene da una famiglia unita e molto religiosa. La donna viene descritta dai suoi cari e dagli amici come una persona gentile, premurosa e altruista. Si diploma nel 1961, poi inizia a studiare matematica all'università. Nel 1964 si sposa con il suo fidanzato del liceo, Irv. Nel 1965 Mary si laurea e in poco tempo trova lavoro come insegnante di matematica e algebra alla Ramsey High School di Roseville, nel Minnesota. È questa la scuola superiore che sta frequentando Ming, che, come detto, è particolarmente attratto dalla sua insegnante 22enne, anche perché gli ricorda sua madre. In effetti le due donne sono piuttosto simili, sono entrambi insegnanti di matematica, hanno gli stessi gusti sobri in materia di abbigliamento, si truccano poco e non indossano gioielli. Ming ormai sa che i propri desideri nei confronti della madre sono inappropriati, quindi li riversa sulla professoressa Mary. Le fantasie che Ming elabora su Mary sono alquanto estreme, solitamente associate a un disturbo narcisistico della personalità, ovvero vede se stesso come il dono di Dio alle donne. Si immagina come un cavaliere dall'armatura scintillante che avrebbe fatto cadere Mary ai suoi piedi. Si considera una specie di eroe. Quando Ming torna a casa dopo la scuola si dedica alla scrittura di numerosi romanzi intimi incentrati proprio su Mary. Vi parlo di romanzi, non per scherzare, in quanto Ming scrive letteralmente dei libri completi. Romanzi e fantasie compongono il pensiero principale nelle sue giornate e lo consumano completamente in ogni singolo momento. Ming vive di queste sue fantasie in cui si dipinge come un uomo potente e duro, l'uomo che tutte le donne vorrebbero. Lui però di donna ne vuole solo una, Mary. Sempre secondo le fantasie del ragazzo, Mary sa che il suo studente Ming è l'unico uomo al mondo per lei. Ming resta nella classe di algebra per i due anni successivi, sempre convinto di essere innamorato di Mary e che anche lei lo ami segretamente. In realtà a dirla tutta Mary non presta molta attenzione a Ming, è concentrata a fare il proprio lavoro, ma lui si lusinga, pensa che lei si stia comportando da furbetta perché non vuole far capire a tutti che è innamorata di lui. Ming è certo che Mary pensi solo a lui tutto il giorno, anche se lei lo guarda a malapena. Per lui è troppo spaventata di ammettere i sentimenti che prova. Ma non importa perché un giorno avrebbe finalmente trovato il coraggio e Ming sarebbe stato lì ad aspettarla, sarebbe corso da lei e poi entrambi sarebbero scappati insieme. Notate anche voi che negli anni le sue ossessioni si stanno ingigantendo sempre di più? Arriviamo al 1968, Ming a questo punto ha 18 anni, frequenta l'ultimo anno di liceo e apprende una notizia per lui inconcepibile. Mary ha lasciato il lavoro da insegnante perché ha deciso di partire per un viaggio missionario battista alle Filippine insieme a suo marito. Ming è totalmente devastato da questa notizia, ma come? L'amore della sua vita è scomparso improvvisamente e Ming, per distrarre il suo cuore spezzato, si dedica completamente ai compiti e allo studio, perché è davvero uno studente capace e diligente. Colleziona ottimi voti, si unisce alla squadra di football e quella di basket ed emerge anche nello sport. Quando si diploma Ming viene votato come lo studente con maggiori probabilità di successo. Dopo il liceo il ragazzo si iscrive all'università del Minnesota, dove lavoravano entrambi i suoi genitori. Ma trascorso un anno di lezioni la sua salute mentale peggiora rapidamente, non riesce a gestire lo stress, quindi abbandona gli studi universitari e torna a casa a vivere con sua madre e i suoi due fratelli. È proprio in questo momento che avvia un'attività di riparazione elettronica che riscuote molto successo, assume parecchi dipendenti e, in futuro, il valore dell'azienda verrà valutato un quarto di milioni di dollari. Ma, nonostante il successo, Ming si isola completamente e soffre la solitudine. Raramente interagisce con i dipendenti. Quando torna a casa non parla mai di sé, né con sua madre né con i suoi due fratelli. Decide di spostare tutte le sue cose nel semi-interrato e rimane sempre lì sotto quando non è al lavoro. Smette anche di occuparsi della sua igiene personale, infatti raramente fa la doccia. Quando sua madre si risposa, la donna si trasferisce in Virginia dal Minnesota, ma non vende la casa in cui abitava, dove Ming e i suoi fratelli rimangono a vivere insieme. Tuttavia Ming parla raramente con Charles e Ron, che continuano ad odiarlo per il modo in cui lui li ha trattati quando erano più piccoli. Tutte le ore che Ming trascorre da solo nel semi-interrato le usa per fantasticare e l'ossessione per la sua insegnante Mary torna prepotentemente. Ormai Ming ha vent'anni e immagina ancora di avere rapporti con lei. Ma Mary in realtà non gli basta più. Infatti Ming ha preso a fantasticare sulle attrici che vede in tv. Anche loro sono incredibilmente simili. Tutte interpretano ruoli materni, si vestono in modo modesto, non si truccano molto, non indossano gioielli. Se ricordate, questo è lo stile sia di sua madre che della sua insegnante. Tra le sue attrici preferite ci sono Shirley Jones nella sua interpretazione in La famiglia Patridge, Florence Henderson nella sitcom La famiglia Brady e Julie Andrews in Tutti insieme appassionatamente. Ora vi faccio vedere le foto di tutte queste donne. Vi rendete conto di quanto sono simili? Hanno tutti i capelli morto corti, si vestono più o meno nello stesso modo. Insomma, guardando queste foto tutti insieme, la somiglianza tra loro spicca. In questo periodo Ming riprende anche a scrivere i suoi romanzi, che però non sono così spinti, perché lui aderisce allo stile del romanticismo vittoriano, che privilegia il linguaggio poetico e l'esplorazione delle emozioni profonde dei personaggi. La donna ideale di Ming ormai, lo sapete bene, è sua madre, una donna semplice e modesta, ma meglio se non lavori. Nei suoi scritti, infatti, Ming celebra le casalinghe tradizionaliste degli anni Sessanta. Le sue storie, poi, a dirla tutta, si somigliano molto tra loro. C'è il protagonista maschile, un giovane affascinante e bravissimo letto, che sarebbe lui. I suoi romanzi sono di genere storico e avvolti da atmosfere gotiche. che il protagonista è sempre in sella a un cavallo e rompe in un castello o in una magione, cattura una donna più grande di lui per sposarla e la obbliga a salire sul suo destriero. La donna inizialmente si ribella e chiede di essere liberata, ma poi deve arrendersi all'amore e all'attrazione che prova verso il suo rapitore. Tutte queste dame sono pudiche, premurose, materne e indossano un intimo rigorosamente bianco. Erano tutte sposate con uomini che non riuscivano a soddisfarli a letto e a dar loro un figlio. Ma adesso ci pensa Ming. A dirla tutta, i suoi romanzi finiscono tutti allo stesso modo. Le donne non resistono al corpo perfetto di Ming, si innamorano perdutamente di lui. Se avete il coraggio potete anche leggere alcune delle sue storie pubblicate online. Io le ho trovate e in effetti ho avuto la pessima idea di leggerle, vi assicuro che sono enormemente deliranti. Anche se le donne protagoniste dei romanzi hanno nomi diversi, quando Ming scrive queste pagine pensa soltanto a lei, Mary, la sua insegnante di matematica del liceo. A questo punto arriviamo alla metà degli anni 70. Ming ha circa 25 anni e il suo comportamento sta diventando sempre più inquietante. Diventa ossessionato da un film intitolato L'insegnante, The Teacher. La pellicola viene descritta come un film erotico di formazione. Si vede una professoressa provocante di 28 anni che vuole divorziare dal marito negligente per poter avere una relazione con uno dei suoi studenti. Ming guarda queste scene e pensa di vedere riprodotta la propria vita, quel film parla di lui. Mary, la sua insegnante di matematica, vuole lasciare il marito e iniziare una relazione con il suo ex studente, Ming. Questo, secondo il ragazzo, è il segno che lui e Mary dovrebbero stare insieme. Anche i comportamenti di Ming verso sua madre continuano a essere inquietanti. Dovete sapere che la donna ogni tanto fa visita ai figli e dorme nella sua vecchia camera, dove Ming, che ora ha 25 anni, continua a intrufolarsi per infilarsi nel letto di sua madre. Mei finalmente prende una posizione e lo scaccia perché è incredibilmente inappropriato. Dopo i rimproveri, Ming si allontana rabbioso. Si sente talmente rifiutato che poi a malapena parla con sua madre, fingendo che lei in pratica non esista. Quella situazione gli conferma che Mary è l'unica donna per lui. Lei prova gli stessi identici sentimenti di Ming. Anche Mary è ossessionata da lui e lo pensa costantemente, secondo Ming. Vi sottolineo che sono passati circa otto anni dall'ultima volta in cui Ming ha visto Mary. Ora, oltre a fantasticare, Ming vuole passare al livello successivo, rintracciare Mary. Così trova l'indirizzo di un certo Irving Strofer. Questa persona vive in Minnesota, non troppo lontano da Ming in realtà. Il ragazzo, quindi, si convince che in quella casa abitino Mary e suo marito, tornati dalle Filippine. Quindi, una sera si reca a quell'indirizzo e si piazza all'esterno dello stabile mentre esplora un po' la zona. Un giorno, però, si fa coraggio. E il rompe in casa, armato di pistola. Ma Ming si ritrova davanti una coppia di anziani che chiaramente non sono Mary e suo marito. Nervoso, urla ai proprietari di casa di sdraiarsi a terra, a pancia in giù. Li lega e inizia a cercare Mary in giro per la casa. Non la trova, ma vede una foto che raffigura Mary e suo marito. Questo gli dimostra che si trova nella casa giusta. Mary deve essere lì, da qualche parte. Ming prende la foto. Torna dalla coppia di anziani e chiede dove sia la donna ritratta. L'uomo gli risponde che quella è sua nuora, la moglie di suo figlio, ma loro vivono in un altro stato. Quando Ming scopre che Mary non vive negli Stati Uniti, il suo cuore va di nuovo in frantumi. Come vi ho già detto, Mary era partita per le Filippine. Tutto corretto. Poi era tornata negli Stati Uniti e si era stabilita in Nebraska, dove aveva anche avuto una figlia. Dopodiché è tornata nelle Filippine per un altro progetto. Vuole rimanere lì per anni. E a questo punto a Ming non resta che fare una cosa. Esce dalla casa dei due anziani dopo averli minacciati. Se fossero andati dalla polizia, lui li avrebbe uccisi. La coppia di anziani in realtà ci va comunque dalla polizia per denunciare l'accaduto, ma Ming non viene mai rintracciato. Ming quindi torna alla sua vita di totale isolamento. Mary non è neanche in America, quindi lui come può salvarla da suo marito? Quando avrebbero realizzato i loro sogni? Intanto anche i suoi fratelli minori se ne vanno da casa, quindi Ming è ancora più solo. Sa che gli occorrerà molto tempo per rintracciare Mary, ma ce la farà. Perché prima o poi lei ritornerà e a quel punto sarà soltanto sua. Gli anni passano e Ming è ancora costantemente alla ricerca di Mary. Arriviamo al 1979, circa cinque anni dopo che Ming ha fatto irruzione nella casa dei due anziani. Un giorno Ming sfogliando un giornale locale legge un altro articolo dedicato proprio a Mary. Viene descritto il lavoro che lei ha svolto nelle Filippine con la sua chiesa e c'è scritto che sarebbe tornata negli Stati Uniti. Ming è elettrizzato, si sente così fortunato, convinto che i suoi sogni stiano finalmente per diventare realtà. Presto Ming riesce a scoprire dove si trova Mary. Lei e suo marito vivono in un appartamento del campus della Bethel University, ad appena cinque miglia di distanza dalla casa di Ming. La coppia ora ha due figli, una bambina di nome Elizabeth detta Beth, che ha circa sette anni, e un bimbo più piccolo di nome Steve. Dopo averla rintracciata, Ming inizia a seguire Mary e la sua famiglia. Mary, dovete sapere che tiene spesso delle presentazioni all'università per parlare del suo lavoro da missionaria, e Ming è sempre seduto tra il pubblico ad assistere. Quando Mary esce di casa per fare delle commissioni, Ming la segue. Ogni volta che Mary va in chiesa la domenica, Ming è sempre presente e si accomoda in ultima fila. Dopo un po' di tempo, la sua persecuzione gli permette di memorizzare le attività di tutti i membri della famiglia, con relativi orari. Ming scopre i loro hobby, i loro interessi, il cibo che sono soliti comprare al supermercato, consumare al ristorante, i giocattoli con cui si intrattengono i bambini. Passa ogni momento in cui è sveglio a pedinare Mary, pensando a lei ininterrottamente. Ogni sera Ming si apposta fuori dal suo appartamento, aspetta che Mary rientri e la osserva. Poi si allontana, rincasa e guarda il suo film preferito, quello che descrive la sua amita, the teacher o l'insegnante. Continua a essere convinto che Mary lo desideri segretamente, che voglia ardentemente essere catturata da lui e finalmente soddisfatta a letto. Ming, ormai da anni, è immerso nel proprio delirio. Per circa un anno si accontenta solo di perseguitare Mary, la osserva e basta, senza mai avvicinarsi a lei. In questo periodo uno dei fratelli di Ming, Ron, torna a vivere a casa con lui, ma Ming, come al solito, finge che lui non esista e lo stesso fa Ron con lui. In ogni caso nulla può deconcentrare Ming dal suo impegno di perseguitare Mary. Il tempo passa e quindi arriviamo alla primavera del 1980. Durante una funzione religiosa, a cui partecipa anche Ming, la famiglia di Mary si alza e annuncia che sarebbe tornata nelle Filippine per portare avanti un nuovo progetto missionario. Questa volta sarebbero stati via per quattro anni. Alla notizia Ming viene davvero colto da un attacco di panico. Esce velocemente dalla chiesa, cerca di riprendersi e poi si ripete che non può perdere di nuovo Mary. Non può. Vuole rapirla dalla chiesa e scappare con lei il più lontano possibile. Infine si dà una calmata. Sa che può affrontare questa situazione in modo migliore. Avrebbe impedito a Mary di partire. Non le avrebbe mai più concesso di lasciare l'America. Ming sta già organizzando la casa in vista del rapimento. Pulisce un armadio nel seminterrato che misura quattro piede di lunghezza e 21 pollici di larghezza con l'intenzione di tenerla chiusa lì dentro. Compra delle catene da attaccare all'interno del mobile. Acquista coperte, cuscini e tutti i cibi preferiti di Mary. Allestisce così la sua piccola prigione personale per segregare Mary a tempo indeterminato o almeno finché lei non si sarebbe innamorata di lui. Ora Ming si sente pronto per rapire Mary e prova a farlo in diverse occasioni in realtà. Il 5 maggio del 1980 Ming prova a entrare nel condominio in cui abita Mary unito di una fiamma ossidrica che usa per frantumare un vetro. Dopodiché sarebbe andato nell'appartamento di Mary. Ma fa troppa confusione e sveglia alcuni vicini quindi fugge spaventato. Nove giorni dopo, il 14 maggio, Ming riesce a entrare nel condominio ma i vicini lo sorprendono mentre cerca di manomettere il sistema di sicurezza dell'edificio quindi scappa di nuovo intimorito. Il giorno dopo Ming ci riprova e riesce a introdursi in un seminterrato che si trova proprio sotto l'appartamento di Mary. Tenetevi forte. Riesce a fare un buco nel soffitto di legno spuntando esattamente sotto il letto di Mary e di suo marito. Il buco è grosso abbastanza da permettere a Ming di infilarci tutta la testa. Quindi mentre Mary e suo marito sono in camera e chiacchierano prima di addormentarsi l'intruso è sotto il loro letto ad ascoltarli. Ming in ogni caso intuisce che non è il caso di rapire Mary in presenza di suo marito perché non è abbastanza forte per sopraffarlo. Tuttavia Ming origlia una conversazione in cui Mary dice a Irv, suo marito, di avere un appuntamento dal parrucchiere il giorno dopo. Ming quindi pensa che questa sia la migliore opportunità per rapire Mary che sarebbe stata da sola. Adesso Ming ha 29 anni, Mary ne ha 36 e mancano 4 giorni alla sua ripartenza per le Filippine. Dunque come previsto venerdì 16 maggio del 1980 Mary ha un appuntamento dal parrucchiere ma non vi si reca da sola bensì con la figlia Beth di 8 anni. Intorno alle 16.30 Mary e Beth escono dal salone e si dirigono verso la loro macchina. Notano nelle vicinanze un uomo con addosso una giacca di pelle oversize e degli occhiali da sole. Mary crede che voglia chiedere qualche indicazione ma lui non ha affatto buone intenzioni. Quindi sappiamo di chi si tratta purtroppo. Ming si avventa su Mary e Beth. Tra le mani stringe una pistola, afferra la bambina e le punta contro l'arma gridando a Mary di salire in macchina e di iniziare a guidare. Altrimenti avrebbe sparato. Dato che Ming mantiene la pistola puntata contro sua figlia, Mary fa esattamente tutto ciò che lui ordina. Sale in macchina sul lato del conducente mentre Ming si siede accanto a lei nel posto del passeggero. Infine Beth monta sui sedili posteriori. Ming continua a minacciare la bambina quindi Mary continua a guidare l'automobile e nel frattempo fa diverse domande a Ming. Com'è normale che sia gli chiede di che cosa hai bisogno? Vuoi dei soldi? Ti aiuterò, ti darò tutti i soldi che vuoi. Lasciami accostare. Ti prego, ti darò tutto quello che vuoi. Per favore, non fare del male a mia figlia. È a questo punto che Ming capisce una cosa che lo rattrista molto. Mary non si ricorda di lui. Non ha idea di chi sia. Lo vede come uno sconosciuto, un pericoloso estraneo che sta puntando una pistola contro sua figlia. In questo preciso istante Ming si manifesta la presa di coscienza che fa crollare il suo mondo eretto sulle fantasie. Aveva immaginato questo preciso momento per 15 lunghi anni, ma non credeva che potesse svolgersi così. Si era autoconvinto che Mary lo amasse segretamente, quindi è infuriato. Com'è possibile che Mary nemmeno lo ricordi? Ora il cervello di Ming fronteggia ben due problemi. Siccome per Mary lui è un estraneo, convincerla a seguire il suo copione sarà più difficile del previsto. Inoltre in macchina c'è anche sua figlia Beth, che a lui non interessa minimamente, in quanto vuole Mary tutta per sé. Che ci fa questa ragazzina tra i piedi? Dal punto di vista di Ming, Beth rappresenta la vecchia vita di Mary, già lontana da quella nuova che deve cominciare con lui, generando altri figli. Tuttavia Ming sa benissimo che non può fare del male a Beth, perché Mary non l'avrebbe mai perdonato e non l'avrebbe mai amato. E questo era il suo principale obiettivo, essere amato. Alla fine Ming si rassegna del fatto che Beth deve rimanere con loro. Dopo aver guidato per un po', Ming costringe Mary ad accostare. Si trovano in una zona isolata e il rapitore fa entrare nel bagagliaio della macchina madre e figlia, le lega e le benda. Poi richiude il bagagliaio, si mette alla guida e riparte. A questo punto Ming deve passare alla seconda parte del piano, ovvero spostare Mary e Beth nel suo furgone, perché è necessario abbandonare l'auto di Mary. Il furgone l'ha già parcheggiato in un'altra zona isolata all'inizio della giornata. La raggiunge e parcheggia la macchina di Mary accanto al suo furgone. Scende dalla vettura e va verso il bagagliaio. Ming non si rende conto che lì vicino c'è un parco dove due bambini, Timmy e Jason, stanno giocando. Entrambi vedono Ming, il suo furgone e la macchina. Jason Wilkman, che ha sei anni, è molto curioso, come tanti bimbi. Non perde di vista Ming, lo vede mentre apre il bagagliaio e dà avvio un piccolo tafferuglio. Jason non può capire il perché, ma il fatto è che Mary e Beth sono riuscite a slegarsi e stanno provando a ribellarsi. Il piccolo e curioso Jason si avvicina alla macchina per vedere cosa sta succedendo. Vuole parlare con Ming e chiedergli se vada tutto bene. Guarda nel bagagliaio e scorge Mary e Beth. Solo a questo punto Ming si volta e nota la presenza di Jason che sta lì a fissarlo. Il rapitore va subito nel panico perché il suo piano meticolosamente studiato sta andando tutto storto. Ming aveva parcheggiato il furgone in quella zona perché è convinto che nessuno sarebbe passato di lì. Ma ora si trova davanti un testimone del suo crimine. Senza esitazioni afferra Jason e infila anche lui nel bagagliaio dell'auto di Mary. Riparte in preda al panico senza essere riuscito a spostare nessuno nel suo furgone. Come detto però Jason al parco non era da solo. Con lui infatti c'era l'amichetto Timmy che non si è avvicinato ma ha visto tutto quello che è accaduto. Quindi appena Ming si allontana Timmy corre a casa alla sua mamma e le racconta la scena. Jason è stato rapito da un uomo con un'automobile verde. La mamma di Timmy chiama immediatamente la polizia e gli agenti si mettono subito al lavoro per rintrecciare la macchina. Più pattuglie iniziano a cercarla. Nelle ore successive mentre è in corso la ricerca di Jason il parco si riempie di agenti della polizia. Nel frattempo il furgone di Ming è ancora parcheggiato nello stesso identico punto mentre lui sta guidando la macchina di Mary in circolo. È rimasto in zona senza allontanarsi troppo perché è assalito dal panico. Ming sa che presto qualcuno denuncerà la scomparsa degli ostaggi e dell'automobile. Deve disfarsi del veicolo così come vorrebbe disfarsi di Beth e di quel bambino troppo curioso. E Ming arriva alla terribile conclusione di uccidere Jason. Il piccolo pagherà con la vita il suo approccio sospettoso e audace. Una volta arrivato in una zona isolata Jason viene costretto a uscire dal bagagliaio e Ming gli ordina di camminare nel bosco. Poi lo attacca con un corpo contundente di metallo e lo picca a morte prima di nascondere il suo cadavere nelle vicinanze. Secondo alcune fonti Ming avrebbe utilizzato un piede di porco trovato in macchina per colpire Jason due volte alla testa uccidendolo all'istante. Poi seppellisce il suo corpo, copre la terra smossa con delle foglie e se ne va. Risalito a bordo dell'auto, Ming rincomincia a guidare in tondo, sempre nella stessa zona. Beth e Mary gli chiedono che fine abbia fatto Jason e lui mente dicendo di averlo abbandonato in un'area in cui l'avrebbero ritrovato molto presto. Ming, ora, vuole assolutamente abbandonare la macchina di Mary. Nonostante la zona in cui si trova il suo furgone sia piena di poliziotti, riesce ad accostare proprio nei pressi e a spostare Mary e Beth nel suo camioncino senza che nessuno lo veda. Poi se ne va. È appena passata la mezzanotte quando Ming arriva a casa sua. Trascina Mary e Beth, ancora bendate, afferrandole dal retro del furgone e le conduce dentro l'abitazione, sempre sotto la minaccia della pistola. Poi le costringe a scendere nel seminterrato. Una volta lì Ming rimuove le bende dagli occhi di madre e figlia che ora, davanti a quello scenario, sono ancora più terrorizzate. Ming le conduce verso l'armadio che ha preparato per Mary, le incatena le pareti e chiude la porta, lasciandoli nell'oscurità. Beth inizia a urlare e piangere mentre Mary prova a rassicurarla e prega, prega e spera di riuscire a uscire da lì dentro. Mary si sente impotente. Non ha idea di dove sia? Non sa cosa voglia da lei questo sconosciuto? Passa la notte, arriva il giorno seguente e la ricerca di Mary e Beth è già iniziata. Il giorno prima il marito di Mary, Irv, ha denunciato la scomparsa della moglie e della figlia alla polizia. Mary e Beth sono state dichiarate scomparse a distanza di poche ore dal rapimento di Jason. L'auto di Mary, descritta da Irv, sembra coincidere con quella su cui è stato sottratto il bimbo. Quindi la polizia capisce che i due casi in qualche modo sono collegati. Viene urgentemente richiesto il supporto dell'FBI e le ricerche si estendono per tutti e tre. L'auto di Mary in effetti viene individuata in poco tempo, ma l'FBI non ha ancora dei sospetti sul colpevole del rapimento. È il 17 maggio del 1980. Ming trascina Mary fuori dall'armadio e lascia Beth chiusa dentro. Mary e Ming stanno per avere la loro prima conversazione dopo ben 15 anni e Ming, come sapete, è deluso perché le cose non sono andate secondo i suoi piani, dunque la realtà non è stata all'altezza della sua fantasia. Ming vuole capire, vuole comprendere come mai Mary non l'abbia riconosciuto e la sottopone a una sorta di interrogatorio. Monta pure una videocamera perché vuole registrare tutta la scena per ricordarla. L'uomo quindi dice a Mary che hanno qualcosa in comune, una parte del passato in comune. Le chiede se ricorda qualcuno conosciuto nel periodo in cui faceva l'insegnante e le sottolinea che le sta fornendo un indizio per rispondere bene alla domanda. Mary è sconcertata e risponde semplicemente di no, non ricorda proprio nessuno. Ming insiste e le dice, sei sicura di non ricordare proprio nessuno degli studenti a cui ha insegnato? Mary si cervella, scava in vano nella propria memoria ma capisce che deve assecondare il sequestratore e quindi risponde, sì forse ricordo uno studente, era un piantagrane, si chiamava Bob. Ming a questo punto va fuori di testa ed esclama, oh quindi ricordi soli piantagrane? Capisco, ma che mi dici dei bravi studenti, quegli studenti che hanno lavorato sodo esattamente come me? Mary chiede e conferma a Ming che lui sia stato davvero uno dei suoi allievi perché lei proprio non se lo ricorda. Lui ribadisce di sì, sono passati 15 anni ma quel periodo è impresso nel suo cervello, ricorda tutto di quelle lezioni, il colore dei banchi, cosa era solita indossare lei, ogni cosa. Infine chiede a Mary come osi non ricordarsi di lui. Mary, scioccata, gli domanda cosa voglia da lei e Ming decide di dirle una bugia perché è troppo imbarazzato per ammettere che ha una cotta folle per lei da 15 anni. Le reazioni della donna l'hanno spiazzato. Ming, mentendo, dice a Mary che una volta lei gli aveva dato un voto relativamente basso, ossia una B- a causa del quale non aveva potuto conferire una borsa di studio. Le racconta che al posto di andare all'università è stato obbligato ad argolarsi nell'esercito, è stato mandato in Vietnam ed è diventato un prigioniero di guerra. In base a quanto dice Ming, tutto ciò che è andato male nella sua vita è stato causato da Mary e da quel voto che gli aveva dato, quella B-. Ming sta inventando questa storia sul momento nella speranza che Mary si senta quantomeno in colpa per avergli rovinato la vita. Questa prima conversazione prosegue per ore e ore e Mary rimane lì, seduta, ferma e confusa. Beth invece è ancora chiusa nell'armadio, completamente al buio. Ming a questo punto racconta a Mary l'ennesima bugia, le dice che la libererà entro quattro giorni così potrà partire per il suo viaggio alle Filippine. Ma nel frattempo, precisa Ming, Mary deve essere punita per quello che gli aveva fatto. Quindi la trascina sul letto e le dice chiaramente che ha intenzione di esercitare violenza su di lei. Mary lo implora di non farlo, ma Ming la ignora e le dice che deve trasmetterle il dolore emotivo che lui ha provato in tutti questi anni. Mentre sfoga le sue fantasie o scene su Mary, Ming riprende tutto con la telecamera, vuole conservare la registrazione per il proprio piacere. Dopo l'aggressione, Mary gli chiede perché la stia filmando e lui risponde che quando l'avrà liberata potrà guardare quei nastri consapevole che si è vendicato. A questo punto Mary viene nuovamente imprigionata nell'armadio con Beth, abbandonate alla completa oscurità. I giorni passano, Mary e Beth rimangono chiuse nell'armadio per 24 ore al giorno, hanno a disposizione solo delle coperte, dei cuscini e un secchio per andare in bagno. Ogni giorno Ming prepara da mangiare i suoi ostaggi, conosce i loro cibi preferiti, cosa che fa inquietare Mary ancora di più. La donna si chiede come diavolo faccia a sapere questi dettagli. Mary e Beth non possono mai uscire dall'armadio di loro iniziativa, non possono fare una doccia e l'odore in quell'ambiente ristretto è davvero insopportabile, dato che devono espletare i loro bisogni in un secchio. Le uniche occasioni in cui Mary esce dall'armadio più volte al giorno si verificano perché Ming vuole farle violenza e filma ogni atto. Passati quattro giorni Ming non mantiene la sua promessa di liberarle. Ogni giorno va a lavorare e lascia Beth e Mary legate nell'armadio. Inoltre ora le punizioni diventano più pesanti per loro perché Ming le tiene separate solo per il gusto di spaventarle. Ad esempio trascina Beth fuori dall'armadio, la porta nel suo furgone, la incatena e la chiude dentro. Beth rimane da sola in quest'altra prigione per ore ed ore. Vi ricordo che Beth è piccola, ha otto anni ed è molto spaventata. Sua madre che è altrettanto terrorizzata quando sono insieme si impone di sembrare coraggiosa per evitare che Beth si spaventi ancora di più. Mary non le dice nulla di ciò che subisce fuori dall'armadio, le ripete soltanto parole di incoraggiamento, la invoglia a rimanere forte e positiva finché avrebbero trovato una via d'uscita. Un giorno nell'armadio, dove ora è stata posizionata una lampadina con catenella, Mary trova un vecchio scontrino di un lavaggio a secco con sopra scritto l'indirizzo di Ming. Almeno ora sa dove si trovano. Mary memorizza l'indirizzo e lo fa memorizzare anche a Beth e distrugge la ricevuta in modo che Ming non sappia della loro scoperta. Nel frattempo la notizia della scomparsa di Mary e Beth viene trasmessa dal telegiornale e Ming apprende che l'auto di Mary è stata trovata. Sperava che la polizia non la rintracciasse, che ipotizzasse che Mary e Beth si erano allontanate di propria iniziativa. Ora Ming è di nuovo in preda al panico, teme che la polizia riesca a seguire le loro tracce e così decide di condurre Mary al piano di sopra per costringerla a scrivere una lettera indirizzata a suo marito in cui deve comunicargli che non sarebbe mai tornata a casa. Quando la lettera viene inviata Ming si autoconvince che la polizia avrebbe smesso di cercare Mary. Ma la polizia e l'FBI che esaminano la lettera intuiscono che c'è dietro la mano del rapitore. L'FBI chiede ai media di smettere di diffondere informazioni sul caso in modo da dare al rapitore l'illusione di essere al sicuro. Vogliono fargli credere di aver smesso di cercare Beth e Mary così lui avrebbe abbassato la guardia. Intanto anche le indagini sul caso di Jason procedono. Gli inquirenti credono che il piccolo sia in ostaggio ma vivo perché non hanno ancora individuato il suo corpo. La prigionia di Beth e Mary prosegue per altre settimane. Sono ancora incatenate in quell'armadio senza nessuna speranza di uscire e scappare. Un giorno però le due prigionieri iniziano a sentire altri passi in casa e sospettano che ci sia qualcun altro che abita lì oltre a Ming. E hanno ragione. Infatti Ron è tornato ancora una volta a vivere in quella casa. Così quando Ming è al lavoro Mary e Beth danno dei colpi contro il muro per cercare di attirare l'attenzione dell'altro inquilino ma Ron non avverte più di tanto i rumori. La casa in realtà ora è suddivisa in diversi appartamenti separati ed è raro che Ron sia di passaggio. Ogni appartamento ha la propria cucina, il proprio bagno, il proprio soggiorno e la propria camera da letto. Ron più avanti dirà che forse qualche volta ha sentito dei rumori insoliti ma ha pensato che Ming avesse trovato una fidanzata. Col passare del tempo Ming ha conferma che suo fratello Ron non si è accorto di nulla ed è sereno anche perché la polizia non è venuta a cercare Mary e Beth a casa sua quindi le sue azioni diventano ancora più disinvolte. Inizia a far uscire Mary e Beth fuori dall'armadio e le fa salire in casa. Mary lo convince che Beth ha bisogno di una dieta sana e nutriente perché sta crescendo. Ming ha consente, va pure a fare la spesa e compra il cibo che Mary gli ha chiesto. Poi permette a madre e figlia di cucinare. I tre prendono l'abitudine di sedersi attorno alla tavola, di pranzare e cenare insieme esattamente come una famiglia per volere di Ming. Ming si sente immerso in un brodo di giugiole. Ama follemente questi momenti, ha atteso di viverli per 15 anni. Ming ora permette a entrambe di farsi la doccia, compra per Beth dei libri e dei giochi da tavolo e spesso si siedono tutti insieme a guardare la televisione. Quando va al lavoro Ming però continua a chiuderla nell'armadio. A questo punto forse vi starete ponendo una domanda lecita. Perché Mary e Beth non provano a scappare? C'è un momento in cui Ming le perde di vista? Ahimè, no. Ming tiene sempre la pistola puntata contro Beth e minaccia entrambi dicendo che se avessero provato a scappare le avrebbe ammazzate tutte e due, iniziando proprio da Beth. Mary fuggirebbe a gambe elevate, non vuole di certo giocare alla finta famiglia felice con Ming. Ming desidera tornare a casa da suo marito, libera, ma non può mettere in pericolo la vita di sua figlia, quindi non trova mai il coraggio di provare a scappare. Purtroppo, quotidianamente e più volte al giorno, Ming continua ad assalire Mary e a registrare le sue molestie. Mary prova a reagire, urla, si divincola. Anche se resiste a tutto il resto, se finge che le piaccia passare del tempo con Ming a cucinare per lui e guardare la TV insieme, non può di certo tollerare la violenza. Ming dal canto suo non si arrabbia quando Mary si dimena o lo respinge, anzi, la prega, la implora di provare a divertirsi, perché la sua follia gli sussurra alla mente che l'ha fatta prigioniera solo per amore. Ancora desidera e spera che Mary ricambi i suoi sentimenti. Quindi Ming chiede a Mary di essere tenera e dolce con lui, di toccarlo, di accarezzarlo, di baciarlo e di prendersi cura di lui. Ma Mary lo respinge sempre. Man mano i continui rifiuti di Mary generano in Ming dei problemini relativi alla sua performance a letto. Lui le attribuisce tutta la colpa e le spiega che non può dare il meglio di sé se lei non gli dice che lo ama. Insomma, Mary non può comportarsi come se lui le susciti disgusto. Una notte Ming torna a insistere chiedendo a Mary di baciarlo, ma lei continua a rifiutarsi dicendogli no più volte. Stavolta però Ming si infuria, tira fuori Beth dall'armadio, prende un sacchetto di plastica, glielo infila in testa e dice a Mary che l'avrebbe soffocata. Tuttavia, se lei avesse accettato di baciarlo, allora lui si sarebbe fermato immediatamente. Mary è disperata, sua figlia la faccia avvolta in un sacchetto, urla, piange e presto non sarebbe più riuscita a respirare. Mary capisce che deve cedere, anche se non vuole. Non vuole soddisfare i desideri di quel mostro e spera che un bacio sulla guancia sia sufficiente. Ma a Ming non basta di certo e non si arrende. Davanti al rischio concreto che Beth stia morendo, Mary accetta di baciarlo sulle labbra. Ming, soddisfatto perché ha raggiunto il suo obiettivo, sfila il sacchetto dalla testa di Beth, permettendole di respirare. Mary a questo punto ne è certa, Ming è disposto anche a uccidere se le sue richieste non vengono assecondate. Passano altri giorni, siamo alla terza settimana di prigionia e Ming decide di portare la sua nuova famiglia in vacanza. Avete capito bene, li porta in vacanza. In pratica, in programma una conferenza commerciale a Chicago, a cui Ming è interessato, in quanto è un imprenditore che ha sempre curato la sua azienda. Vuole partecipare all'evento e non può far altro che portare Mary e Beth con sé. Ming nolleggia un camper, oscura tutte le finestre con del cartone, lega Mary e Beth e fa delle ricerche su altri rapitori per assicurarsi di imparare dai loro errori. Ovviamente ribadisce le sue minacce, se Mary avesse provato ad attirare l'attenzione della gente, avrebbe ucciso sia lei che Beth all'istante. Una volta giunti a Chicago, Ming va alla conferenza, dopodiché decide di portare Mary e Beth a fare un giro in un centro commerciale. Le fa scegliere dei vestiti nuovi, che però fa pagare a Mary. Poi vanno da Kmart e infine a mangiare, come una famiglia normale, comune. Mary durante il viaggio è quella che deve sostenere tutte le spese, quindi dopo l'ennesimo acquisto decide di pagare usando un assegno. Spera che questa operazione venga segnalata, siccome la sua scomparsa è stata denunciata, magari l'FBI sarà in grado di rintracciare l'assegno. Così l'avrebbe trovata e tratta in salvo insieme a Beth. Tuttavia questo non accade. Quando Mary e Beth sono sole nel camper, la bambina trova il coraggio di rimuovere una parte del cartone dal finestrino e vede un gruppo di adolescenti. Beth riesce ad attirare la loro attenzione e a comunicare che lei e sua madre sono state rapite da un uomo intenzionato a ucciderle. Purtroppo i ragazzi non prendono seriamente la richiesta di aiuto di Beth, convinti che stia scherzando e se ne vanno. Pochi giorni dopo, di ritorno dalla breve vacanza a Chicago, Ming si sente in cima al mondo, convinto di aver conquistato la sua piccola famiglia felice. Finalmente le sue fantasie stanno diventando realtà. La disinvoltura e la superbia di Ming lo spingono a esaudire un desiderio dei suoi ostaggi, permettere a Beth di telefonare a casa per sentire suo padre Irv e fare gli auguri per la festa del papà. Tuttavia Beth chiaramente deve seguire delle regole durante la chiamata. Non può mai nominare Ming, non può dire dove si trova, né fornire dettagli sulla casa. Può pronunciare soltanto una frase, buona festa del papà. Irv scopre così che sua figlia e probabilmente anche sua moglie sono salve e contemporaneamente lo viene a sapere anche l'FBI, quindi la ricerca di Mary e Beth si intensifica ulteriormente. È il 20 giugno, sono passate 5 settimane dal rapimento, Mary e Beth sono ancora bloccate nella realtà contorta che Ming ha ideato. È il compleanno di Mary, quindi Ming costringe gli ostaggi a sedersi al tavolo da pranzo. Lui e Beth devono cantare tanti auguri a te, mentre Mary spegne le candeline. Durante il sequestro Ming non ha mai smesso di dedicarsi alla scrittura dei suoi romanzi, che però ora sono un po' diversi perché le storie includono sempre una donna con una figlia. Il 4 luglio Ming decide di portare Mary e Beth ad assistere a uno spettacolo pirotecnico e durante il viaggio succede qualcosa di significativo perché Mary nota la macchina di uno sceriffo. Sul retro dell'auto è indicato il numero di telefono dell'ufficio di polizia locale. Mary lo memorizza e quando tornano a casa di Ming, mentre lei e Beth sono chiuse nell'armadio, dice alla figlia che deve memorizzare anche lei il numero dello sceriffo. Arriviamo al 7 luglio, il 53esimo giorno di prigionia. È mattina e Mary si è svegliata nell'armadio come al solito. Ming la trascina fuori e le dice che ha gradito molto la loro piccola vacanza a Chicago. Infatti sta pensando di noleggiare di nuovo un camper per fare un altro viaggio, stavolta molto lungo, della durata di circa un anno. Mary a questo punto è allarmata dai progetti di Ming, non può permettere che lui li metta in atto. Se fossero partite, forse la polizia non le avrebbe ritrovate mai più. E lo scopo di Ming è proprio questo, perché lui non ha alcuna intenzione di lasciarle andare. Quando Ming si reca al lavoro come tutte le mattine, Mary decide che è giunto il momento di agire. Qualche giorno prima in realtà Mary e Beth sono state spostate in un altro armadio, leggermente più grande perché Ron, il fratello di Ming, è andato fuori città e vi rimarrà per un po'. Ma, nell'armadio presente in casa, Ming non si è occupato di prendere le stesse precauzioni adoperate per quello nel seminterrato. Del primo armadio Ming aveva rinforzato i cardini, aveva rimosso la maniglia dell'anta dall'interno affinché Mary e Beth non potesse riuscire a loro piacimento. Poi trascinava sempre un mobile robusto davanti all'apertura. Nel condurla nel nuovo armadio Ming non ha preso gli stessi provvedimenti, infatti la maniglia interna è presente, i cardini non sono stati rinforzati e non ci sono mobili disposti per bloccare l'apertura, perché ormai Ming è quasi sicuro che Mary e Beth non sarebbero scappate. Dunque, in questa fatidica giornata del 7 luglio 1980, Mary prova ad allentare i cardini della porta e riesce subito a estrarre il perno per poi spostarla fuori dal telaio. Mary è felicissima, sta già iniziando ad assaporare la libertà, tuttavia Beth è terrorizzata. Non vuole uscire dall'armadio perché ha paura della reazione di Ming qualora le sorprenda durante la fuga. Mary riesce a rassicurarla e a convincerla, deve fidarsi di lei, devono collaborare per uscire da quella prigione. Così madre e figlia escono dalla loro cella e girano per la casa deserta alla ricerca di un telefono. Quando lo individuano chiamano il numero dello sceriffo che avevano memorizzato. Il centralinista dall'altra parte della cornetta chiede dove si trovino e Mary lo sa perché aveva notato quello scontrino della lavanderia su cui era riportato l'indirizzo di casa di Ming e aveva memorizzato anche quello. Mary aggiunge di stare attenti perché se c'è un furgone nel vialetto significa che Ming, il rapitore, è in casa ed è un uomo armato e pericoloso. Lo sceriffo dà istruzioni a Mary dicendole di fare finta di nulla e di resistere ancora un po'. Le raccomanda di stare lontana dalle finestre e di mettersi al riparo. Però quando Mary mette giù il telefono Beth è completamente in panico, sta piangendo, è stressata e prega a sua mamma di permetterle di uscire. Vuole nascondersi dietro alcuni cespugli in attesa dell'arrivo della polizia. Mary allora ignora le raccomandazioni dello sceriffo e sgattaiola fuori di casa con Beth. Riescono a nascondersi proprio dietro alcuni cespugli vicino a un'auto e nel giro di pochi minuti la polizia arriva sulla scena mentre Ming è ancora al lavoro. La polizia rompe in casa e la perquisisce freneticamente alla ricerca di Mary e Beth, ovviamente senza trovarle. Per fortuna alcuni agenti tornano all'esterno e le individuano. Madre e figlia vengono tratte in salva e portate immediatamente all'ospedale più vicino. Entrambe hanno perso parecchio peso durante queste settimane di prigionia e hanno bisogno di essere visitate e di ricevere cure mediche adeguate. In ospedale i medici si accertano che, tutto sommato, i due stanno bene anche se devono riprendere peso. Dopodiché Mary e Beth vengono portate nell'ufficio dello sceriffo per essere interrogate. Durante l'interrogatorio la polizia chiede in continuazione di Jason Wilkman, credendo che il bambino fosse prigioniero di Ming insieme a loro. Mary spiega che purtroppo non ha più visto Jason dal giorno in cui sono state rapite. Non sa cosa gli è successo esattamente perché Ming le ha mentito, quindi sperava che la polizia l'avesse ritrovato. Ma, visto che non è andata così, tutti giungono alla terribile e reale conclusione. Jason è stato ucciso. Ming si è sbarazzato di lui. La polizia quindi si reca sul posto di lavoro di Ming e lo arresta. Finalmente! Lui si mostra ignaro di tutto come se non sapesse perché lo stanno portando via. Ma, quando sta per entrare nell'ufficio dello sceriffo, commette un grosso errore. Nello stesso momento Mary e Beth vengono scortate fuori, quindi il rapitore si trova faccia a faccia con loro e inizia a urlare frasi come Perché avete fatto questo? Cosa gli avete detto? Perché siete scappate? Dopo aver vissuto l'ennesimo momento di tensione, Mary e Beth torno ad Irv. Finalmente. Tutta la famiglia del settimo cielo si sente davvero fortunata per l'epilogo di questa orribile vicenda. Tuttavia, purtroppo, il calvario per Mary non si è ancora concluso. Ming è furioso e giura che si vendicherà di lei. E il fatto di essere chiuso in una cella non lo ferma. Infatti prova ad assoldare un sicario, un altro detenuto che sta per essere rilasciato. Ming gli offre 50.000 dollari per inseguire Mary e ucciderla. Gli anticipa un assegno da 1000 dollari che il carcerato accetta dicendogli che sarebbe andato a cercare Mary e ad ammazzarla. Ma l'uomo, quando esce di prigione, incassi 1000 dollari e se ne va per la sua strada. Per fortuna non ci pensa neanche a soddisfare la richiesta di Ming. In seguito Ming cerca di evadere dalla prigione per uccidere Mary personalmente, ma viene beccato e trasferito in una cella di massima sicurezza. Poi, finalmente, il 9 settembre del 1980, due mesi dopo la fuga di Mary e Beth, Ming va al processo dove si dichiara non colpevole. Quando Mary, per testimoniare, entra in aula, Ming inizia a urlarle contro «Perché mi hai lasciato?». Così l'imputato viene trattenuto e scortato fuori dal tribunale, mentre Mary sale sul banco dei testimoni e racconta tutto ciò che è successo a lei e a sua figlia. La difesa prova a giocarsi la carta dell'incapacità di intendere e di volere, ma fallisce perché, anche se Ming è affetto da qualche disturbo mentale, sapeva benissimo che le sue azioni erano sbagliate. Ming aveva pianificato il rapimento da tantissimo tempo. Alla fine l'imputato viene dichiarato colpevole e condannato a 30 anni di prigione. Ma non è finita qui, perché Ming deve affrontare anche il processo per l'omicidio di Jason Wilkman. Lui però stringe un accordo con la polizia. Se avesse rivelato la posizione del corpo di Jason, sarebbe stato accusato di omicidio di secondo grado soltanto. Dunque Ming porta gli agenti nel bosco sul luogo in cui aveva sepolto Jason e solo adesso i genitori del piccolo scoprono tutta l'atrocità che aveva subito il figlioletto. Anche in occasione del secondo processo, Mary si presenta per testimoniare contro Ming. Vuole fare tutto ciò che è in suo potere per tenerlo dietro le sbarre il più a lungo possibile. Quando Mary entra in aula, Ming le urla di nuovo contro. Mentre la donna da cui è sempre stato sessionato si trova sul banco dei testimoni, Ming riesce ad alzarsi e a correre verso di lei e tra le mani stringe un coltello. Mi chiedo come Ming si è riuscito a introdurre di nascosto un coltello in un'aula di tribunale. Non ci crederete, ma prima che venga trattenuto, Ming riesce addirittura a ferire in faccia Mary che inizia a sanguinare lì sul banco dei testimoni. Mary viene immediatamente portata in ospedale dove le vengono applicati 62 punti di sutura. Infatti ne rimarrà una cicatrice sul viso piuttosto importante. Anche se tutto ciò non sarebbe dovuto accadere, per fortuna Mary è salva. Dopo l'aggressione da parte di Ming, il processo riprende e Mary torna in aula a testimoniare contro di lui. L'imputato viene dichiarato colpevole e condannato a 40 anni di prigione per l'omicidio di Jason. In prigione Ming non si comporta da detenuto modello, anzi diventa un incubo per i carcerieri. Viene sorpreso più volte mentre si fabbrica delle armi da solo, aggredisce molti altri detenuti e minaccia le guardie. Inoltre non mostra alcun rimorso né per aver sequestrato Mary e Beth, né per aver ucciso Jason. Ming rifiuta categoricamente tutte le cure farmacologiche che invece gli sarebbero molto utili e infine viene trasferito in una prigione di massima sicurezza. Mentre Ming è dietro le sbarre, Mary e Beth riescono a ricostruire le loro vite. Mary torna nelle Filippine con la sua famiglia, proprio come aveva programmato, e si impegna tanto nella sua carriera missionaria. Continua a lavorare soldo per la sua comunità e la sua chiesa. Nel corso degli anni Mary e Beth rilasciano numerose interviste per condividere la loro storia nella speranza di incoraggiare altri sopravvissuti, trasmettendo che è possibile superare un evento così traumatico. Il loro motto è non sei solo e c'è luce alla fine del tunnel. Nel 2010 Ming presenta una richiesta per la libertà condizionale, evento che terrorizza Mary e Beth in quanto Ming aveva preannunciato che, a prescindere da quanti anni sarebbero passati, una volta libero avrebbe scovato Mary e l'avrebbe uccisa. Se invece Mary fosse già morta, allora avrebbe dato la caccia ai suoi figli. E se i suoi figli fossero già morti, avrebbe braccato i suoi nipoti. E così via. Onestamente trovo che Ming sia quasi posseduto dalla rabbia e dal desiderio di vendetta. Ancora oggi è terribilmente ossessionato da Mary. Fortunatamente la giustizia stabilisce che Ming è troppo pericoloso per essere rilasciato, infatti tutt'oggi continua a vivere dietro le sbarre. Sebbene Mary abbia subito un autentico calvario, insiste sul fatto che questa esperienza non ha incrinato il corso della sua vita. Dopo aver affrontato quegli orribili maltrattamenti, Mary si è dimostrata forte ancora una volta, perché non ha accettato che la sua esistenza venisse rovinata a causa dell'odio altrui. Beth, la bambina rapita insieme alla madre, oggi è una donna che conduce una felice vita coniugale. Ed è mamma a sua volta. Nonostante le torte a cui è stata sottoposta, Beth dice che il suo cuore ha contemplato il perdono. E, anche se non ha voluto stabilire contatti con Ming per paura, prega che Dio sia misericordioso con lui. Detto questo, io ho finito di parlare di questo folle caso e del folle Ming, un soggettone per quanto mi riguarda una storia del genere, io mai l'avevo sentita, quindi sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate, quali sono le vostre opinioni, conoscevate già questo caso, fatemi sapere tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Come vi dico sempre, ci becchiamo nei commenti. Detto questo, io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.